Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video con Thor! Ciao! Ieri ci siamo lasciati proprio qui per terra perché stiamo aspettando Lara Se non avete seguito la faccenda praticamente ieri abbiamo preso per me e oggi proprio per voi nel video di ieri abbiamo preso questo cucciolo di cane corso Thor e praticamente a Lara abbiamo detto che invece l'avremmo preso il venerdì quindi il giorno del suo compleanno e invece l'abbiamo preso oggi a sorpresa e lei sta a scuola mio marito è appena andato a prendere la bimba a scuola e quindi tra poco avremo la sua reazione al vederlo qui a casa comunque domani ho il signore delle pulizie che mi viene ad aiutare e casa è un pochino più disordinata del solito quindi perdonatemi se nelle riprese vedrete ancora più casino rispetto al solito però col fatto che abbiamo appena cambiato stanza e tutto quanto ci siamo presi un attimo anche per togliere qualcosina in più e abbiamo deciso di dare in beneficenza alcune robine anche di Lara quindi se vedete delle buste in giro delle cose così è perché stiamo organizzando un po' di cose prima della festa di Lara quindi scusate per il casotto comunque se volete vedere il video nel quale siamo andati a prenderlo che è stata un'emozione unica lo trovate appunto nel video di ieri e vi presento Thor il nuovo componente di famiglia se volete saperne un po' di più di Thor lo trovate appunto tutte le informazioni nel video di ieri se lo metto così si vede praticamente è brutta ciao 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 si no si moriva proprio di caldo si moriva proprio di caldo dove vai? ma cosa no? ma saluta la mamma almeno ma mi dai un bacetto dai un bacio a mamma dai un bacio dai un bacio dai povera mamma oh attenta attenta che in un momento ti schiacci il cane non è un bacio 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 Guarda che bello! Guarda che bello! Sei contenta? Mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, mamma mia! Siete già amici! Siete già migliori amici! No vabbè, è stato... Cioè, di giù è stato magnifico vederla! Sì! Sì! Ma è stato bellissimo! Cioè, continuavi ad andare in giro? Ma Sara, mi segue? Sì, c'è Tor che ti segue! Amore, gli piaci! Perché? Ma gli piace proprio! Oddio! Cioè, ma tu andavi proprio così, con la testa così tra le nuvele, non l'hai visto? No, mi piace! Questo è un amicone, eh! Siete proprio amici ormai! Sì, perché? Che è un gatto! Hai visto? Guarda, guarda, guarda! Amore, ma devi vedere come gioca! Sta giocando un batto con Lara! Ma non ti guarda! Guarda, guarda! Oddio, che belli che sono! Cioè, noi che stiamo con la lacrimuccia proprio! Giuro, non era così attivo prima! Non era così attivo! Guardalo! No! No, vabbè! Ma che belli che sono! Poi sono identici adesso! Oddio! Piangi quando non ci sono! Ah, già! Piangi quando non ci sono! Lo so! È incredibile! No, vabbè! Sei contenta? Sì! Ma che sorpresa incredibile è! Eh? Eh? Signor... No, vabbè! Non sapevo che eravate qua dietro! Eh? Chi è tornata, amore? La Lara! La Lara è tornata! Yeee! Tutti felici per Lara! Sì, certo che te l'ha dato! No, vabbè! Aspetta che gli devo liberarla! Io avevo detto che arrivava ai miei amici! Ma invece ti fanno i miei amici! Lo senti! Dai! Ecco, sentisi! Stai vedendo che rapporto incredibile! Cioè, è la prima volta che si vedono! Oddio! È la prima volta che poi vede Lara! Ma è la prima volta! Ma è la prima volta! Cioè, è la prima volta! Asch! Asch! Tu sei risultato al principio, non sei mascaio! Sì, sì! Anche tu, anche tu! Sì, tutti quanti! Non l'aspettavo! Non te l'aspettavo! Non te l'aspettavi! Che hai pensato quando l'hai visto? Posso togliermi le scarpe di più? Che carino! Oddio! Vuole giocare! Amore! Amore guarda! Tor! Tor! Basta! Basta! Finito! Finito così! Finito tutto! Sì, con piacere! Se me lo fa fare Tor! vabbè DC! Vabbè, ma è Tor che te li vuole togliere Scusami, hai ragione Aiuto Tor, aiuto Oddio Asetta Ah, no, no, no Sei proprio un cucciolo Amore, la prima cosa che ha fatto Amore, ma l'hai visto? E tu sei un principe Tor No, vabbè, ma guarda questi Ma guarda questi Caio, Caio Ehi Bravi Ok, è meglio Ciao, Caio Va bene, tieni No, come va bene, tieni Vuole che stai con lui Bravo, Caio Bravo, good job Lara l'ha preso in bezzo per la prima volta Lo sai che tra pochi mesi questa cosa non sarà più possibile Tra poco diventa il doppio di Caio Oddio, quanto è bello Madò Che belli, oddio Mi sa che hai trovato chi dormirà con te Lara, ti ricordi? Questo gliel'hai comprato tu Vediamo se gli piace Che? Che? Il tuo zucchino Il zucchino No Che è gratta Vedi se ad Asci piace Asci? Piace? No, non gliene briga niente Caio? Sì, Caio, sì! Sì! Eh, infatti! Bravo, Caio!